Cosa faccio questo? Maomet 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 era un uomo che faceva muovere le montagne una montagna disgraziata che è capricciosa non si voleva muovere allora lui andò sulla montagna e disse non ti muovere, si muovò Ma nonna mi fa sguardo e va 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 Giovanni, fammi muovere Miri Provello Guirono Cosa 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 Non ciò Cosa Cosa ma che la? Sì, santa santa! Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Ma ora ora! Ma ora 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 ora! Eeeh! Quelli sono le schiattiche che uno tiene in campo! Ma avete capito! Senta la fila! Tanta lampe, mancano trucco! Eeeh! Oh ma ci parla di, si va a scusare figliami! Eeeh! Che se la vuole in basaria figliami! Hai detto che se la porti in Germano! E mi porti pure a me! E' un po' scalore! Io so bene! Ma ora che c'è da fare? Non biancino! Non ne è giannino! Pasquale! Questo non è chianti! E' un po' fresco! E' il discarico della tensione! Sta discaricando! Ma ora è giusto! Cosa ti fa per discaricare? E' proprio allora! Fammi prendere qualche voglia di una partita! Mi stanno facendo! Eeeh! Ma lo fa? Com'è la roba? Ma che voglia di una? Mi stanno facendo! Eeeh! Quelli non ci vedono tanto tempo! Non ha toccato! Tocca e fu! Eeeh! 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 Lasciamma parte! Mamma la cena! Eeeh! 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 questa lotta fatta lo sacco l'acqua e si batta la pazzanga e l'acqua fa una vera oi l'ho pagliato pure Pacenzo Pacenzo attacca il Leone vicino a Berami Leone e chi è il Leone e l'acqua si preferisce andare tu e chi è? E' un canillo vitto da Ducano ma che Rosanti? Ma di chi è qua? no io voglio bene a sala e che c'è dentro ripulano oi allora riepilo camma riepilo camma qui sotto la donna questa è Muggerma Francesca e chi sta il figlio ma mi c'è insamo già sera io di uscito ah no, 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 no ah non mi niente è di usare la forza non fa la forza eh oi ha la tua cosa vuoi cosa fa? è forte è forte ti hai spruppiato nella mano oi che stai facendo? e tu ditte ha la tua cosa? lì sotto ho trovi le cose ah va bene va bene e chi l'ha giù? ha passato il bandano sulleva l'arca ecco ti ha passato tutta cosa lo ha passato oi ma questo signore te ne ho porto una faccia con ciò no 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 io vengo da da vendere qua sono un amico di famiglia che abita molto lontano ma ci si io parlo sempre scusate mi chiamo Filippetto io parlo sempre no mia moglie ma ci si? io parlo sempre perché vuoi fare sempre l'uomo risponde sempre a me eh si 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 ma io l'ha già fatta apposta l'ha già fatta per vedere uno in un cinematone bravo Cristo Si tu sta faccio basta ahah ahahah ma non puoi me ma ahahah ehm ma ehm ma c'era qua con l'amici poste si ma c'è chi può dire che è questa è un entrante che viene da trovarmi il bottiglio ahah fa ma a borsaletto no no a borsaletto a borsaletto la strada stava ricc'entato ma mi piace basta 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 chi stiava prima che aveva una parella eiii ehii ehii perché venga la forza a ieri 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 mezzo a voi ma chi l'hai figlio pure a te ma davvero basta per me c'hai indice in me sono passato tanti anni e se ti avessi fatto i tuoi orti 12 essi, una paglia di giù e uno in me ma a me come fai come fai? Aspetta, senza che fai io la capo non ma io, me l'ho già cresciuta e va bene ma chi l'hai figlio? e ammaculato mi sono devito fare tanta giura a favore e non mi facevo mai niente fatta zitta che ti sono gruppato ma vorrei mai ragionare? ma non mi com'amma io, non mi facevo cosa dico come qui quando uno è figlio veramente se fai io e io mezzo a voi fatta zitta che non mi ho fai e va bene e va bene e va bene specialmente roppe che è la lettera armonica che ha già avuto la Germania fatta trovandica che l'hai figlio a me ma perché? che hanno scritto? sito che è top, paparita che tu non gli hai sanno e non mi fai si faccio 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 ma voi si te salta si, che sta scritto faccio 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 scusate ma non ici ma non ici non è uno colui ma non lo so non lo parla no ti haiайн non ici non ici non ici cosa? e specialmente la sottoscrizione che è arrivata la lettera è firmata che è 10 femmine con un nome, cognome e indirizzo Uuuu, hai detto che era un'arma Eh, vabbè, che le lettere valamente a questi si chiamano? Anomiche, anomiche Una lettera anomiche Perciò, perciò che stai a moro con quelle altre anni E ne sei sposata ancora, ma vengono tutte cose Ma non c'è mamma, ma di una vista c'era qualcuno Una vista per la caggenda Oh, i canni, e che scocche il femmine, papà Ma voi mi dici quando è che mi posso sposare Con battere una poca muggera, ma Eeeh, tu volta e volta, e che le parole ho potuto fare Eeeh, senti questa parola E' un po' e il femmine non si va E' un po' e il femmine Buonasera a tutti quanti Buonasera Io non so se era buonasera E perchè? Perchè? Perchè, faccio da ciappa a scala in mezzo E si no, io no Femmere con femmere A noi l'uomo non c'è piaccia E' stato per me sei pasta noc E' buonasera E' mangiata velga che lo fanno scrossare? Non lo fanno E stai cascata Ma chiamate a Pasquale che è meglio? E' meglio che no, ma sapo? O meglio o peggio, nessuno sa? Quando trova è buono può brillare e male può paghettare. Leana, noi non avevamo figli e non potremmo trovare. Tu sapi che sa dove sta? Si, sta partire da fronte a me. Oh, è vero che tra le pesi dei corpi, facite la scica, c'è il suo padre che c'è seduto. Uppate, ma quale uppate? Zitta, ma quale uppate? Ma quale uppate? Ti ho invitato voi, sai? Ma quanto uppate? Pensavo, pensavo tu sei un nonno. Un nonno! E' solo uppate, giovanile! Tu sei scema e ti è stato scema! Ohhh! Pensavo! Pensavo! Figgi, magari, venine, prai! Aspettare un viaggio! Ohhh! 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 Vi o che la vi dai? Ohhh! Vi o mi! Vi o mi! Dovano un ganà, tu stivine, ossia un viaggio in noi! O no, no! O, no, o no! Mamma, mamma! Mamma! ahhhhhhhhh ahhh ahhh Ma quando potete capire dove mi è che me l'ha già scusato? Sì! A colla, a colla di quei d'angelo nuvangolo! Ma perché? E' un dono di stima! Ehi! Ehi! Ma lasciarlo! Presidente! Ehi, un po' da qui sta, va bene? Venite, si richiede da me! Ma ti ha fatto, dici nella casa civile! Allora, scusa, eh! Chiamata Pasquale, che è meglio? No, ma il sapone non è meglio! E' meglio che parli conmico, eh! Ma... Liana! Voglio a me! Ah? Pasqua! Pasqua, che lei non scena! Forse stai cucinando? Stai facendo le bocate! Ragiccio! Gli stanno a noi! Ehi! Ehi, che fuoco, cadere! Ci fa un reggimento di bubbiere! Ehi, ma tu tu! Ehi, eh! E' stato sì, te non parla giù! A forza a me che si vuotra sì! Eh, e chi ne guarda l'uomo? Non c'è ne te ne scurrià! Aiuto da lei, buo sì, è stato sì! Buonasera, mezzo a voi! Buonasera, butti giù! Ma vale che sono un po' a morire! E tu stiamo facendo? Oh, lasciamo! Oh, lasciamo! Lasciamo! Oh, lasciamo! 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 Gli è mi sapevo! Pasqua! Oh, parma me! Ti sto spettando a te! Ehi... E' inutido! E' inutido perché se sono una persona sarebbe dalla mondo con me non lo puoi nascere. Schiacchietto Di PruENDO mica! Non lo puoi nascere! Hai ragione, baschetto... Ti so punto da battere e capisco! Guardate, io capisco tutto coso prima che tu parlo! No... te ne sape psicologico trabajo pure io! Oh, è che le sei dunque nei saluti, lo sai? Lasciami io vabbè, eh! Deuto! Nano, ne so! Tu non sai niente! Lo sai cos'è, non sai ne farti! non parlare, faici qua, non parlare no ma è meglio che io parli che non... non parlare, faici qua, non parlare eh allora non parlare non parlare, non parlare, non parlare sai tutto, sai tutto sai tutto sai capito tutto, non parlare è meglio, sai che ti ricchi no? è meglio che tu stai si noo, e che tu vorresti c'è c'è meglio che tu stai si e io sono così ma tu parla tu sta azzì ma allora parla parla e sta azzì ma si capisci come sto azzì e c'è tipo la la vocca e me non puoi nascere hai ragione figlio mi ha fatto una scalzone con il tuo figlio e non esce che parola non ti preoccupare mezza volta non sei fatto come sta Paschal! Paschal! non mi faccio il mio figlio capri di capretta a Paschali e a Giappalloica e a Giappalloica Paschal è Gesù Cristo e si sa che era il mio figlio non ne importo niente a Giappallo e a Giappalloica e allora parla e fa una tua e me ne fai la partiglia e poi partirei Margarita! Sattigna, padre è fico! Non mi senta a bolla! Accompa già fechando mia bolla! I fatti a shame! A shame, non a shame! Ah, 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 Pallucci! Vieni a mamma! Va bene, va! A Roma! Ah, ah, ah! Va bene! Francesco, ti metti in capa una cosa! È asciuto o non è asciuto? Non un colpo in su! Figlio, non tenevo diritti a Roma e far la breccia di portapiglia! Come ha già parlato? Come ha un libro straggio? Ma ha già parlato! Ma ha già parlato? Ma è asciuto o non è asciuto? A noi non do il colpo in sulle figlie e io non me la mamma! Ma i parecchi genitori andò a sto paese non si possono mandare i figli per l'opera! Ehi! Avete? Vabbè, i figli di lato non ce ne portano! Parlamo di un figlio mio! Ah, Giovanni! Tu lo puoi portare! Ehi! Non ti preoccupare! Con figli di me Carmelino non ho affatto niente! Portatele! Vabbè! Spiegatevi! Mi sapevo non poteva fare niente! Ti capito? Ah! Non poteva fare niente! Ehi! Ma te l'hai te Carmelino! Non c'era bisogno! Ehi! Ci stava proprio un'impossibilità materiale! Ma eh! Ma tu sei? Oh sì! Ma dove siete? A chi sei stato il figlio? Sì! Eh! Ma so, mamma, che ti stai avendo sanno e so! No! Ma spiegatevi! Fammi capirevi! Chi ne ha già capito? Ehi! Ma perché figli? Ti vengono vero che è stato a Roma! Per tu ci sei stato a Roma! Ehi! Ci sei stato a Roma! Non mi ha detto niente che sei stato a Roma! Ehi! Allora... Allora mi ha detto una bucina! Non c'è stato a Roma! E allora ma che la cattiva! Ma che la figli ho riporto! Ma quello riporto! Vieni al cattiva! Ma tu dici che è stato a Roma! Sì, sì! E se signora è stato a Roma! Vieni che c'è stato a Roma! Oh! Mezzalo! Tu, ragazzi, sei qualche anno! Se ne sa! Io non ti voglio mortificare Giovanni! Non ti voglio far scuffiare a tua figlia! A mio figlio! Non voglio scommigliare o Feluccia! Feluccia! Mezzalo! 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 La situazione che stava tua figlia ci voleva solamente nominare la bufata mentre il genitore! Era impossibile! Era impossibile! Era impossibile! Era impossibile! Ma che no? Io ti vengo tutto spallumato! Ma che no? Capisci? Ma buona me! E allora che stiamo in coppa alla terra che c'è stato solo! Tu qua nella terra con i raggi solari per far schiupare il piano dell'epoca! Ma qua c'era proprio la mancanza dell'ossai mannato! Ma... Poi! Posso parlare? Stato sito! Codrono con un pugno il capo! Stava ragionando! Ma siete babbun! Io non voglio prendere i figli nessuno! Francesco, mi fa un po' piacere! Prendete con i figli vostri! Prendete tutti i due! Purtroppo la bella perchè Carmela non lo vuoi più! E non lo vuoi più! E non lo vuoi più fanghi! Sì! Sì! Ma come hai sentito la lucca? Vorrei capire i figli a fare un mese a piaccia! E dico... ...o figli di Mesa Votto Giovannino non ha fatto niente con mia figli Carmina! Va bene? Allora vi stai affrontando via! Ma che la casa peggiori qua! Ma qual è? Che faccia veramente un mese a piaccia! E allora che fa? E allora che faccio? E allora che faccio? Se si cuoce se faccio... ...o figli di Mesa Votto Giovannino non ha fatto niente con mia figli di Carmina! Va bene? Guttiglio! Mannaggia! Sei parole non so chiaro! E non ti acconcio mai! Ma bu! Oh figli di Mesa Votto Giovannino non ha potuto fare niente con mia figli di Carmina! Va bene? Ma che stai dicendo? Ma... 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 En possonopsi! Eeeh!